Salve a tutti, sono Deborah Cuini, sono medico, omeopata, referente regionale per lo Stop 5G Mark e referente provinciale ISDE per la provincia di Fermo. Nella scuola di alta formazione tratteremo le tematiche dell'influenza che l'ambiente ha sul nostro stato di salute e in particolar modo, per quanto mi riguarda, tratterò delle problematiche che riguardano proprio il neurosviluppo, quindi la crescita dei nostri bambini, la crescita armonica dei nostri bambini in un ambiente che purtroppo è sempre più inquinato. Quindi vedremo in che modo cercare di tutelare i nostri figli dall'essere esposti a un eccessivo quantitativo di inquinanti, in particolar modo gli inquinanti elettromagnetici che sono sempre poco considerati, soprattutto dalla classe medica. Cercheremo di capire quali sono gli approcci terapeutici più idonei per aiutare i nostri piccoli a ottimizzare le loro risorse di resilienza per far sì che la loro crescita sia il più possibile, idealmente, quella che dovrebbe essere. Quindi vi aspettiamo nel nostro corso di alta formazione, augurandoci veramente di fare un grande servizio a tutti i colleghi che sono interessati a comprendere in modo più approfondito in che modo possiamo aiutare i nostri pazienti a comprendere quali sono effettivamente i rischi di esposizione a certi tipi di inquinanti e come agire al meglio per minimizzare l'esposizione e per ottimizzare la risposta individuale a questi tossici che a volte non sono proprio evitabili. Grazie. 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 Grazie.